amici siamo tornati in diretta ragazzi aspettiamo che scendono gian yaman ragazzi ci siamo ragazzi ci siamo tra poco dovrebbe uscire siamo in diretta live da palazzo artale aspettiamo solo che gianna scende hanno finito di girare ragazzi a quest'ora tardissimo davvero racconto ragazzi con le condivisioni ci teniamo tantissimo eccomando di lasciare anche un like alla pagina per continuare a vedere gian yaman a palermo stavamo anche azzurra guerrieri ciao azzurra aspettiamo qualche secondino ragazzi l'ottimo me di mercurio francesca bernardini la mia amica daniela di cesareo ciao danni ciao vale qua c'è adrian tra poco arriva gianna ragazzi facciamo linda e felicia ragazzi vi raccomando di lasciare un like alla pagina grazie di cuore ciao daniela ciao nancy condividetela a diretta ragazzi forza facciamo la reggianna a tutti affitta adesso felicia praticamente ciao fabio ciao annamaria saluti ciao rosi rosi ringraziamo sabrina bologna che invia 100 stelle grazie sabri ciao giovanna un saluto si rosa sto scendo ragazzi hanno messo lì l'auto apposta grazie a voi vita grazie a tutti gli amici della pagina sotto ringraziamento per i nostri sostenitori vi racconto ragazzi inviate delle stelle gratuite se vi spunta la notifica guardiamo anche sandra williams e patrizia cocila da che arriva ragazzi sta arrivando adesso c'è abbastanza movimento io dico quello si può spostare un po' ciao chiara un saluto non si può dire niente no non posso vediamo anche pera cantoni ciao piero e giuseppino piazzese ciao carla punta vediamo anche già da san giorgio grazie a te meri da che ci siamo ragazzi dai 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 ciao parrino grazie ciao giusi ciao francesca c'è anche mimo ragazzi c'è anche giovanni su instagram vi raccomando ragazzi di seguirci lasciate un like nella pagina grazie vi raccomando di cliccare su segui e attivare la campanellina perché faremo anche altre dirette nei prossimi giorni quindi a parte stasera che ovviamente è un po' stanco Gianni sicuramente farà solo un cenno al massimo quindi comunque in qualche modo ovviamente non si soffermerà più di tanto salutiamo anche d'ora e Veronica e Daniele Lannino saluti da Palermo grazie a noi siamo un po' distanti ciao Dorotea un saluto ciao Rosa ciao Marianna grazie vi racconto se prendete poi il video taggateci almeno ringrazio tutti i gruppi che ci sostengono e ci condividono grazie Adri ciao Francesca eh sì ragazzi è fatto un po' tardi ragazzi ringrazio tutti i gruppi collegati sono stati anche Virgi Maurizzi Rossella Greco Rossella è un po' difficile ragazzi si vede ha fatto tardissimo stasera e ci sono comunque una ventina di persone massimo diciamo che ovviamente non si fermerà sicuramente per una foto chiara pochissima gente ragazzi ovviamente non penso si fermerà per la foto perché è molto stanco è stato qui tutto il giorno saluto anche Elena Luminita ciao Isabella Zappani ciao Adriana ciao Maria aspetta ragazzi ci mettiamo di qua siamo in diretta ciao Giuseppe da quello prendiamo meglio ragazzi ci siamo ci siamo ciao Adriana saluti ci siamo messi in un punto un po' meglio grazie Giuseppe lo del nostro amico Giuseppe sempre presente ciao Paola ciao Adriana ciao Marianna ragazzi è qui in primo piano lo prendiamo ragazzi resterà almeno fino a fine mese siamo con lo zoom ragazzi passerà proprio da qui eccoci 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 ciao Anna Penna ciao Vale lo so Vale purtroppo ragazzi che di così non possiamo fare chi era aspetta un lupissimo chi era? no uno dell'altro ah ok dai ragazzi che arriva ragazzi dai che arriva c'è una immacolata grazie ciao Giuseppe però qui si fa un bordello non lo vedrete ciao Giuseppe saluti anche Maria e Marino ciao Isaura saluti anche Maria e Mary grazie ragazzi grazie ragazzi ciao Gio dal Texas dai che stanno scendendo tutti ragazzi forse manca solo Gianna e qualcun altro ma comunque sono tutti già giù Francesca Bernardini ciao Francesca ciao Felicia saluti da Palermo saluti anche Maria e Marino e salvo a Gior mamma mia ragazzi non è che ci stiamo avvicinando dico già qua c'è Monica questa è Monica si si lei è vedete anche Giovanna Vitale ciao Giovanna ragazzi domani vi faremo sapere dove sono noi ovviamente faremo una diretta al mattino e vi informeremo ciao Sonia ciao Sandra un saluto vedete anche gli amici dell'Inghilterra ciao Chiara no dico meglio salvo a Giorgia Logalbo ciao ciao Paola sta iniziando anche a piovere ragazzi incredibile non piove non so da quanto salvo anche Laura Ciattini e Gino Iannuzzi ciao Carmela da che esce ragazzi da che esce ci sono pochissimi fan quindi comunque la situazione è abbastanza tranquilla ragazzi aspettiamo ci fa magari un cenno salvo anche la luminita ciao Elena vamos ragazzi su quelle condivisioni anche a quest'ora li voglio tantissimi l'Achilemi è già scesa sì Francesco mi è sembrato di vederla sentiamo anche Pina Bica ciao Maria domani ragazzi vi faremo sapere dove fanno le riprese domani mattina faremo una live e vi informeremo sentiamo anche Anna Maria Fasanelli e Adriana Zorzetti da Formia ciao Mario vediamo Mario Principato sì sì Carmela è appena finito ragazzi stanno andando via tutti praticamente aspettiamo gli ultimi tra gli altri c'è anche Gian sono tutti i costumisti tutti i padrucchieri sentiamo anche Chiara Casamenti e Paola Porretto ciao Paola ciao Gianna guarda che ci riusciamo no sentiamo anche Hamza sentiamo anche Salve Giorgia saluti tutti gli amici di Instagram uscita di Giorgia Man ragazzi da Palazzo Artale saluti anche a Azzurra guerrieri ciao Azzurra vamos ragazzi su con le condivisioni arriviamo a 500 ragazzi siamo a 435 in diretta ciao Adriana ciao Grazia da che arriva ragazzi da che arriva siamo live anche su Instagram ragazzi Instagram e Facebook vi racconto di condividere la diretta ragazzi supportateci e vi racconto taggateci nei video sentiamo Cristina Giannola e Mamone Carmelo ciao Carmi da che ci siamo ragazzi da che ci siamo tra poco dovrebbe spuntare Adrian e poi anche lui no vita non credo ci abitano forse sì forse ci abitano non lo so no Chiara probabilmente non si fermerà ragazzi da oggi pomeriggio che comunque fa delle riprese quindi ovviamente magari eviterà di fermarsi salutiamo anche Palaporretto ragazzi è dentro è dentro Gianna ragazzi aspettiamo che scende salutiamo anche Maria Covali ciao Maria adesso un po' di pazienza uscirà da qui questa è l'auto salutiamo anche Natalia Milanesio e Cinzia Moriconi ciao Nena salutiamo a tutti gli amici che si stanno collegando no vabbè Chiara lo so ma ragazzi è data stamattina che è qui quindi ovviamente sarà stanco e andrà via presto salutiamo anche a Fabio biondo a Monica Tinirello salutiamo a Billesci 56 Fisher e a Canchus ragazzi anche su Instagram siamo live salutiamo anche a Veronica Carluccio e a Reggio Vita no? no Vita non ho letto il messaggio ragazzi sono concentrato sulle immagini non possiamo perderlo salutiamo anche a Stefania ciao Stefania ciao Lucia ciao Gisela ciao Anna Maria ciao Giulia un sacco di amici da chi arriva ragazzi per le stelle gratis dovete cliccare nel tasto a forma di stelle e inviare invia stelle aderne l'autista azzur salutiamo anche a Reggio Vita spero rimanga questo clima ragazzi sia abbastanza tranquillo vi devo dire adesso non so se magari qualcuno si avvicinerà per per far qualcosa non so però ovviamente non possiamo saperlo prima salutiamo anche a Daniela Francesca Bernardini intanto qui è arrivato l'autista qua c'è Gianna ragazzi dai che arriva dai che arriva dai che arriva eccolo qua dai eccolo qua ragazzi Gianna su Panorama Italy anche questa sera entrate in auto salutiamo Rossella Greco Biondo Carlo e Ursula Stefani un saluto ragazzi vi diamo la buonanotte così stasera con Gianna grazie davvero a tutti voi che siete intervenuti salutiamo anche Mirtin e Pallaporretto salutiamo anche a Giorgia un saluto adesso va via da questo lato questo è l'auto è andato via ragazzi vi auguro davvero una buonanotte da Palazzo salutiamo Anna Penna a Zurra Guerrieri ringraziamo gli amici di Triscele buonanotte ragazzi grazie di cuore salutiamo Anna Penna Chiara Casamenti e tutti gli amici che si sono collegati ragazzi ci vediamo alla prossima diretta grazie di cuore a tutti ragazzi vi raccomando di condividere la diretta e di darci una mano con le condivisioni ovviamente lasciate un like anche su Instagram e YouTube ci vediamo alla prossima grazie di cuore ragazzi da Palermo per questa sera è tutto una buonanotte a voi a tutti i sostenitori della pagina e a tutti gli amici grazie di cuore ciao Jeff salutiamo Parrino Jeffrey salutiamo ovviamente alla nostra Giuseppe Gregorio Anthony tutti i supporti sostenitori salutiamo Francesca Bernardini la nostra carola la nostra amica Carola tutti gli amici sostenitori la nostra amica Luciana Vieira Rossi Roll Adriana tutti gli amici che sono intervenuti ringraziamo anche gli amici che hanno donato delle stelle ringraziamo Sabrina Bologna ciao Vale buonanotte anche a te grazie di cuore del sostegno salutiamo anche Marilu ragazzi vi faccio vedere la cattedrale e chiudiamo dai salutiamo anche Sandra Giamprini ciao Sandra ciao Carola insomma ragazzi vi vedete la buonanotte con Gioia Man ci siamo riusciti chiudiamo da qui ragazzi uno scorcio sulla nostra cattedrale di Palermo meravigliosa adesso andiamo a dormire poi dopodichè domani torneremo in diretta da Palermo un bacio e un abbraccio a tutti voi ringraziamo anche Giovanni e Mimmo che sono qui con me e tutti gli amici